era una modesta famigliuola di impiegati il marito impiegato al ministero corretto e meticoloso eseguiva rigorosamente il suo dovere si chiamava leopold bonnen era un giovane ometto che pensava sempre quanto si doveva pensare era stato educato con principi religiosi ed era diventato meno credente da quando la repubblica tendeva a separare la chiesa dallo stato proclamava a voce alta nei corridoi del ministero sono religioso religiosissimo anzi ma religioso nei confronti di dio non sono certo clericale pretendeva innanzitutto di essere una persona onesta e lo proclamava battendosi il petto in verità era un uomo onesto nel senso più mediocre della parola entrava in orario usciva in orario non perdeva tempo si dimostrava sempre coscienzioso nelle questioni di denaro aveva sposato la figlia di un collega povero la sorella del quale era invece milionaria essendo andata sposa per amore a un ricco signore del quale era rimasta vedova costei non aveva avuto figli cosa di cui si disperava e perciò il suo patrimonio doveva andare per forza alla nipote eredità era il pensiero fisso della famiglia gravava sulla casa gravava sull'intero ministero tutti sapevano che bonnan avrebbero ereditato un milione neppure la coppia giovane aveva figli ma non ci tenevano contenti della loro limitata e tranquilla onestà il loro appartamento era pulito ordinato sonno lento poiché essi erano calmi e moderati in tutto e pensavano che un bambino avrebbe sconvolto la loro vita la loro intimità la loro quiete non avrebbero fatto nulla per restare senza discendenti ma poiché il cielo non gliene mandava tanto meglio la zia milionaria si disperava della loro sterilità e si prodigava in consigli per farla cessare a suo tempo anche lei aveva tentato senza successo i mille sistemi suggeriti da amici e chiromanti da quando aveva passato l'età per procreare altri mille sistemi da lei creduti infallibili erano stati indicati e rammentandosi di non poterli sperimentare si intestardiva a volerli insegnare ai nipoti ripetendo di continuo allora avete provato quel che vi ho insegnato l'altro giorno morì nell'intimo della giovane coppia fiorì una gioia segreta di quelle che si velano di lutto con se stessi e con gli altri la coscienza si veste di nero e l'anima freme di gioia seppero che un testamento era stato depositato presso un notaio e si precipitarono appena usciti di chiesa la zia rimasta fedele all'idea fissa di tutta la sua vita aveva lasciato il milione al loro primo figlio con l'usufrutto ai genitori finché fossero vivi se entro tre anni la giovane coppia non avesse avuto figli il patrimonio sarebbe andato ai poveri rimasero sgomenti avviliti il marito si ammalò e per otto giorni non andò in ufficio poi quando si fu ripreso si impegnò energicamente per diventare padre per sei mesi vi si ostinò fino a diventare l'ombra di se stesso gli venivano in mente tutti i sistemi della zia e li seguiva coscienziosamente ma in vano la sua disperata volontà gli dava un'apparente energia che quasi gli fu fatale l'anemia lo logorava si temette una tisi un medico che aveva consultato lo spaventò e lo fece rientrare nella sua pacifica esistenza più tranquilla persino d'una volta con una dieta ricostituente voci ironiche circolavano nel ministero tutti sapevano la delusione del testamento in tutte le divisioni si scherzava sulla famosa botta da un milione tutti davano ai bonen consigli scherzosi altri si offrivano con tracotanza di adempiere la scoraggiante clausola c'era specialmente un giovane ottone che aveva fama di essere un gran donnaiolo famoso negli uffici per i suoi successi il quale punzecchiava con allusioni continue con frasi piccanti vantandoci di poterlo fare ereditare in venti minuti un giorno leopold bonen si offese e alzandosi di scatto con la penna dietro l'orecchio gli scagliò in faccia questa ingiudia signore siete un infame e se non avessi rispetto per me stesso vi sputerai in faccia furono scambiati i testimoni cosa che mise sotto sopra il ministero per tre giorni nei corridoi non si vedevano altro che costoro a elaborare verbali opinioni sull'affare finalmente i quattro delegati adottarono all'unanimità un test di pacificazione e i due interessati lo accettarono scambiandosi poi con molta serietà un saluto e una stretta di mano davanti al capufficio e balbettando qualche parola di scusa durante il mese seguente i due si salutarono con voluta cerimoniosità e con una premura di persone ben educate da avversari che si sono trovati a faccia a faccia finalmente un giorno essendosi urtati alla svolta di un corridoio bonen chiese con molta premura vi ho fatto male l'altro rispose niente affatto signore da quel momento credettero opportuno scambiarsi qualche parola incontrandosi a poco a poco entrarono in confidenza si abituarono a vedersi si capirono si stimarono per quanto prima s'erano detestati e diventarono inseparabili ma leopold era infelice in famiglia sua moglie lo punzecchiava di allusioni grossolane lo martoriava di sottintesi e il tempo passava era già trascorso un anno dalla morte della zia l'eredità pareva perduta la signora bonen quando si mettevano a tavola diceva non c'è granché da mangiare certo sarebbe diverso se fossimo ricchi quando leopold andava in ufficio la signora bonen porgendogli il bastone diceva se avessimo 50.000 lire di rendita non avresti nessun bisogno di andartene a sgobbare laggiù caro signor scribacchino e quando nelle giornate di pioggia la signora bonen stava per uscire mormorava se avessimo la carrozza non dovrai infangarmi tutta con questo tempo insomma in qualunque ora in qualunque circostanza lei sembrava rimproverare al marito qualcosa di vergognoso adossando a lui tutta la colpa tutta la responsabilità per la perdita del patrimonio irritato lui la portò da un famoso medico il quale dopo una lunga visita non si pronunciò disse che non vedeva nulla che era un caso assai frequente che succede ai corpi e non solo alle menti che dopo aver visto tante unioni sciolte per incompatibilità di carattere non c'era da stupirsi vedendone altre sterili per incompatibilità fisica la visita costò 40 franchi trascorse un altro anno fra i due sposi era guerra aperta continua accanita come un terribile odio la signora bonen non faceva che ripetere bella disgrazia perdere un patrimonio per aver sposato un impotente oppure e dire che se mi fosse capitato un altro uomo a quest'ora avrai 50.000 franchi di rendita oppure ci sono persone nella vita che combinano sempre guai rovinano tutto le cene specialmente le serate erano diventate insopportabili non sapendo che fare una sera leopold si portò dietro il suo amico federic morel quello con cui era stato per battersi in duello in breve morel diventò l'amico di famiglia il consigliere ascoltato dai due sposi mancavano soltanto sei mesi alla scadenza del termine dopodiché il milione sarebbe andato ai poveri e a poco a poco leopold cominciò a cambiare di modi con sua moglie diventando anch'egli aggressivo punzecchiandola spesso con oscule insinuazioni parlando con tono misterioso di mogli ed impiegati che erano riusciti a creare una posizione ai loro mariti qualche volta raccontava storie di incredibili promozioni di impiegati subalterni la vino per esempio che era ancora fuori ruolo cinque anni fa è diventato vice capo ufficio leopold scrollava le spalle sai che cos'ha lui ha una moglie intelligente tutto qua è riuscita a farsi amico il capo di visione e ora ottiene tutto quello che vuole nella vita bisogna sapersi arrangiare per non essere presi in giro dal destino che cosa voleva dire esattamente che cosa capì lei che accadde ognuno di loro aveva un calendario su cui segnava i giorni che mancavano alla scadenza fatale e ogni settimana si sentivano prendere da una gran rabbia da un disperato furore da un'irritazione sgomenta e da una tale disperazione che sarebbero stati capaci di commettere un delitto che fosse stato necessario ma una mattina la signora bonnen con gli occhi illustri e tutto il corpo che appariva radioso posò le mani sulle spalle del marito e fissandolo in fondo agli occhi con sguardo fermo e allegro gli disse sottovoce mi pare di essere incinta leopoldebbe un colpo al cuore così violento che per poco non cadde all'indietro e afferrò di scatto la moglie fra le braccia la baciò appassionatamente e la fece sedere sulle ginocchia la strinse di nuovo come una figlia adorata e cedendo alla commozione pianse e si inghiozzò dopo due mesi non c'erano più dubbi allora lui la portò da un dottore perché accertasse il suo stato e consegnò il certificato al notaio presso il quale era depositato il testamento il legale dichiarò che dal momento che il bambino nato o da nascere esisteva egli avrebbe procrastinato l'esecuzione fino al compimento della gravidanza nacque un bambino al quale fu posto il nome di dio donna in ricordo di un'usanza seguita nelle case reali diventarono ricchi una sera mentre il signor bonan stava entrando in casa dove era invitato a cena il suo amico frederick morel sua moglie gli disse tranquillamente poco fa ho pregato il nostro amico frederick di non rimettere più piede in casa mia si è comportato male con me lui la fissò un attimo con un sorriso di conoscente nello sguardo poi aprì le braccia lei vi si gettò e restarono abbrattati a lungo molto a lungo come due bravi sposini tanto affettuosi tanto uniti tanto onesti e bisogna sentire quando la signora bonan parla delle donne che hanno mancato ai loro doveri per amore di coloro che un grande slancio del cuore ha gettato nell'adulterio ha gettato nell'adulterio